Mi piace questo castello. Passeremo la notte qui? Io dovrò partire prima dell'alba, ma tornerò presto. Allora ci fermeremo quanto vorrai. Vieni. Avvisa il capitano che Gualtiero è qui. Io cercherò di trattenerlo. Floriana, che stai facendo? Entra. Eccomi. Eccoli. Lasciatemi i figliacchi! Raditori! Veneteli forse, non possono fuggire. Portateli di qua. Lasciatemi, attento! Maledetti! Traditori! Prima o poi vi uccideremo tutti! Non muovetevi da qui voi. Che ne facciamo? Il Margherese li vuole interrogare. Bene. Bevito il vino. Nemmeno le nozze di cana si è bevuto vino migliore. Non mi va. Non alzate troppo il gomito e tenete le armi a portata di mano. Fermi tutti! Potentivo che c'è la puzza di tradimento! Forza, ragazzi! Non cercate di resistere a un farpeggio per voi. Non ai! Il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Leopoldo. Questa è l'unica via. Dobbiamo tentare, non abbiamo altra scelta. La... La... Questa è l'unica via. 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 Questa è l'unica via.